Sogno cremonese, gara con la Fiorentina, unico obiettivo. I grigi rossi, ultimi in campionato, cercano riscatto in Coppa Italia. Dopo aver battuto agli ottavi il Napoli capolista, ai quarti hanno eliminato la Roma, che è anche l'unica squadra con cui hanno vinto in A. Ballardini scenderà in campo con la migliore formazione possibile. In attacco, spazio alla coppia, Dessers, Zadio. Di fronte avranno la migliore Fiorentina della stagione, riduce da 8 vittorie consecutive e 10 risultati utili di fila tra campionato e Conference League. I viola sognano l'undicesima finale della storia in questa competizione. Italiano in attacco si affiderà a Gonzalez, resta invece da monitorare lo stato fisico di Jovic.